secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie abbiamo preso due manate mica da ridere una manata questa loro non sapevano cosa stavano vendendo un attimo che adesso andiamo al furgo un momento e raga non vi sto leggendo perché abbiamo fatto per la visibilità è quello che riempie sette volte san siro fatto per la visibilità adesso da qua te ne vai a piedi io adesso torno indietro mi fermo da te e tu te ne vai a piedi anche un po' a fanculo ecco è anche a fanculo allora brava troietta che adesso si prendono dai signora guarda che c'è il pullman c'è il pullman oh cristo amo se divento così sparami per favore vai forza c'è nessuno dai oh dio signora venga venga io devo un po' entrare dai lascia perdere lascia perdere sono scendo io e gli guido la macchina gli apro la testa poi fai uscire dai perfetto se mi fai un'altra volta così con la mano ti mando a fare in culo con il dito perfetto 26 minuti per uscire da un parco di revenge of shinobi è un arcade famosissimo columns è una specie di tetris golden axe non ve lo sto neanche a dire perché vabbè golden axe non c'è bisogno neanche di presentazioni work up italia 90 super hang on è un gioco di moto e street of rage è un picchiaduro a scorrimento orizzontale che si gioca in due sono stracontento perché lo cercavo da tanto questo andava in collezione assolutamente c'ero perché si blocca si ma non si può bloccare abbiamo la possibilità e no la cam è nuova signori alla casam fu la oh cristo della madonna del dio cristo adesso mi incazzo adesso mi incazzo si è per avere portato cinque mozzi sulla mia bagnarola ahahahahah lei ha vinto mi scusi questo è la il grog che è andato di traverso d'altronde sono un filibostiere anche io e non mi faccio problemi vuole la sua pergamena firmata la pagina di four sided eccola qua ragazzi come state vedendo è molto semplice questa qui è la pagina instagram io vi invito chiaramente a seguire la pagina instagram di four sided e per invece le iscrizioni come vedete nelle storie in evidenza o nel link in bio addirittura abbiamo la possibilità di cliccare basta cliccare appunto su come si partecipa e c'è il format il forn aspetta il forn è altra cosa nome cognome email numero di telefono e via dicendo ragazzi quindi è molto è molto semplice per partecipare di nuovo ve lo ricordo link in bio abbiamo questo link o nelle storie in evidenza come vedete anche qua abbiamo iscriviti qua è davvero semplicissimo e vi invito appunto a mettere la vostra iscrizione a partecipare a questo campionato tanta roba gai stanta roba molto molto figo facebook non mi dire che vai a commentare i commenti di facebook della gente che è depensante ma sento quello su facebook per le carte io non ha un esso logico questa cosa io scarto vado così a random e guardo te sei una di quella che commenta sotto quelli che insultano vasco io lo so utilizzi il nome boscaiolo 78 incazzato lo so io che sei così te non utilizzo il mio nome anzi io lo so una volta 150 punti vita fuoco sul b un arcanine molto bello questo arcanine gran carta con tutte le montagne dietro molto molto bella ora io non ora indietro mi fermo da te e tu te ne vai a piedi in svizzera è anche un po' a fanculo ecco è anche a fanculo allora ma no ragazzi sono 39 minuti e siamo arrivati almeno secondo il navigatore no perchè adesso dopo cambieremo la strada e te li aumenta e anche qua tu potresti aver ragione vasco rosso io non parlerei per le cose che ha fatto mi viene la strada e te li aumenta e anche qua tu potresti aver ragione vasco rosso io non parlerei per le cose che ha fatto mi viene da vomit no 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 aspetta piano asap se vuoi ancora che la fami parli con te asapa asapa non mi scriverei più su instagram per le spottanate dei pokemon perché te le puoi infilare nel buco del culo perché è quello che ha fatto una volta una cosa che non devi mai fare con mia moglie è parlare con me una volta bello eh signori è entrato ufficialmente in collezione il back come vedete vediamo questo puntino bianco ok è sporco è sporco semplicemente il back è perfetto ed eccolo qua signori porca troia porca ti guarda le spalle signori siamo in rank non messi male non messi male da na 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 butchman butchman eh sì samurai le metto tutte in cassetta di sicurezza mica le tengo a casa sei matto fai conto che siamo arrivati probabilmente sui 30.000 euro di collezione anche di più mica le tengo a casa c'è un po' caldo sì fa molto caldo qui grazie siamo un po' lontani dall'inquadratura ma va bene ok vai piano fammi la pullata della giornata la paura fa novanta a Napoli vai come si chiama le tre cacchine non ne sono le tre cacchine è il Dutrio eeeh tre cazzini non sono tre cazzini il Dutrio niente da ridere vada 70 70 fuoco e si ovvio ha girato l'angolo subito ma ma cos'è che monti tu qua alle 6? sì sono andato 6 e un quadro eh 6 e un quadro ma è così che si fa è tutto a posto sì è tutto a posto del Pikachu cazzo vabbè senti ti faccio una buona domenica e dentro c'era un gioco di pokemon che non l'ho mai visto della si c'era pokemon arena nel nintendo 64 no nessuno va dai lindale ah signori io non ci voglio credere io non ci posso credere io non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere o figata depez che figata lo tenga lo tenga è un charizard in coreano 10 il tangela momento numero 66 tangela psa 10 a milano scrivi monza poi da lì ci organizziamo scrivi stato brianteo che da lì la becchiamo sicuro a vederci nick ma poi una maglietta carinissima sì che sembra che c'è la 12 di taglia di tette sembra che la 12 di taglia di tette allora tutto lo schermo per iniziare acquista con altri metodi caffè borbone deca latte cioccolata bicchiere caffè borbone espresso 60 centesimi amore di caffè noto giusto se fa borbone a 60 centesimi ce lo beviamo 20 40 ci faccio 35 45